Si giocava sui dettagli. Decisione inattesa quanto clamorosa all'Aquila. Il tecnico Massimo Epifani è stato esonerato. La notizia arriva a poche ore dalla vittoria ritrovata ieri nel turno infrasettimanale a Fano. Che il clima fosse teso si era capito nel postpartita quando la società ha imposto a tutti i propri tesserati il silenzio stampa, nonostante tre punti conquistati grazie ai gol di Galesio e Angiulli in mezzo il pari del Fano con Tencorang. Rimane sospetta la tempistica della decisione nel senso che forse già dopo il pari interno con Roma City il destino di Epifani era segnato. La dirigenza Rosso-Blu ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Roberto Cappellacci, ex Valle del Giovenco e Teramo. Il nuovo tecnico domenica prossima debutterà al Gran Sasso d'Italia contro il Sora. Brutto scivolone del Chieti in Molise. Nero Verdi sconfitti dalla fanalino di coda del Girone, Vasto Girardi con una rete nel primo tempo di Fontana, ma va detto che il rientrante Serra ha evitato un passivo ben più pesante. La squadra di Chianese viceversa è stata inconcludente su tutti i fronti, sotto il profilo della determinazione, delle idee e della volontà. Anche fisicamente poca corsa e gambe molli, con un primo tempo davvero inspiegabile senza mai tirare in porta. Nella ripresa complice i cinque cambi, leggermente meglio, ma con pericolosità quasi nulla, se si esclude un colpo di testa su calcio d'angolo di Fall. A fine partita tutti al rapporto dei tifosi delusi, da una squadra che pur senza brillare sotto il profilo del gioco aveva raccolto risultati importanti. Domenica a parlare sarà di nuovo il campo, con la gara interna contro il Fossombrone, seconda forza del Girone e ancora senza sconfitte. Probabile si faccia sentire anche la società, che ieri con il direttore generale Sartiano si è scusato per la prestazione in colore della squadra. L'impresa di giornata è della Vezzano, che alla De Marsi supera 2-1 il lanciatissimo campo basso, tre vittorie consecutive sotto la guida tecnica di Pergolizzi, riuscendo finalmente a centrare il primo successo davanti al pubblico amico. Tabù sfatato, grazie ad un secondo tempo di assoluta qualità dei marsicani, che peraltro sono riusciti a pareggiare i conti già nei primi 45 con Senesi, per poi ribaltare il match con il gol partita di Forte. Una prova di carattere che proietta la Vezzano nelle zone alte della classifica a quota 15, domenica trasferta in campagna contro il Matese. Il notaresco infine si conferma squadra Corsara, centrando a Riccione la terza vittoria in trasferta. Il blitz nel secondo tempo porta la firma di Marrancone. Per la squadra di Bruno la striscia positiva si allunga a sei risultati utili, quattro vittorie e due pareggi, e domenica il suggestivo confronto interno con l'imbattuta battistrada sanbenedettese.